Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app, disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Nel prossimo servizio le immagini dell'antica tomba scoperta dai finanzieri di Crotone, una rarissima testimonianza di un insediamento dell'età del bronzo medio scoperta sul letto attualmente in secca in parte del fiume Neto. Ecco il sito archeologico scoperto dai finanzieri di Crotone. Le fiamme gialle avevano notato diverse persone a girarsi sul letto in secca del fiume Neto e così hanno deciso di effettuare un controllo. Risalendo a piedi il letto del fiume, si sono imbattuti in quelli che sembravano essere i resti di una tomba antichissima. Si tratta di una scoperta di enorme valore storico e culturale. La conferma è arrivata da Paolo Nereo Morelli, ispettore onorario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, contattato dai finanzieri. I reperti rinvenuti sono una rarissima testimonianza di un insediamento dell'età del bronzo medio, un'antichissima sepoltura accista con urna cineraria che risale a molto tempo prima dell'arrivo degli Achei dalla Grecia. Una scoperta importante, come dicevamo, che va ad arricchire il patrimonio culturale della Calabria. Adesso la sovrintendenza ha iniziato i rilievi e le attività di messa in sicurezza del sito, con l'asilo anche di una restauratrice di beni culturali. e grazie all'intervento dei finanzieri è stato scongiurato il pericolo di razzie da parte di trafficanti di reperti archeologici. Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!